Il primo tempo l'abbiamo regalato perché l'abbiamo preparata male, purtroppo ci può stare, però penso che nel secondo tempo abbiamo fatto un gran secondo tempo, peccato che non è arrivato il gol. Però faccio i complimenti alla squadra per il secondo tempo, il primo tempo abbiamo sbagliato tutto. La questione dell'arbitro non mi va di parlare perché arbitri così non si può parlare anche il capitano, oggi ho detto una cosa, mi diceva se gli andavo di nuovo vicino mi buttava fuori, quindi non è bello questa cosa. Penso che l'arbitro dovrebbe avere il dialogo con i giocatori con calma e si fa la sua partita come io mi faccio la mia, ma così non si può andare avanti, cioè male. Beh, guarda, noi ci facciamo il nostro cammino, ci facciamo il nostro campionato, è bello stare là sopra e sperando che ci restiamo fino alla fine. Come ho detto prima, dobbiamo lavorare, adesso abbiamo la sosta, quindi lavoriamo giorno dopo giorno per fare più punti possibili e vedere alla fine dove siamo. La Serie B è sempre difficile rispetto alle altre categorie, sai chi c'è davanti ma non sai mai cosa può succedere. Oggi abbiamo trovato una buona squadra che ha fatto un grandissimo primo tempo, de merito nostro sicuramente, mentre il secondo tempo abbiamo fatto un gran secondo tempo. Quindi la B è difficile, chiunque può stare su, c'è il Pisa su, i complimenti al Pisa e noi dobbiamo fare il nostro campionato, come la Cremonese anche lei che sta là sopra. Quindi la B è molto difficile. Innanzitutto non penso che abbiamo preso uno schiaffo perché siamo andati sullo 0-0. Non siamo preparati in prestazione. E come ho detto prima, l'abbiamo preparata male, andavamo sui terzini che erano liberi e poi andavamo sulla profondità dell'attaccante. Per loro sono stati bravi a staccarsi prima, quindi abbiamo trovato delle difficoltà. Poi nel secondo tempo ci siamo messi lì a parlare e come avete visto abbiamo fatto un altro secondo tempo, quindi ci può anche stare, questo è il calcio.